Quanto è importante seguire le proprie passioni per cercare il lavoro? Capire profondamente cos'è la motivazione che ci guida. Il mio sogno era occuparmi di energia. Credevo in un mondo sostenibile. Quando è che ti infiami? Quando sai fare una cosa, ti piace e la gente l'apprezza. Mi rende orgoglioso il fatto di vedere che c'è tanta gente che ama quello che fa. Facciamo delle cose emozionanti, quindi quando una cosa è emozionante bisogna farla con l'anima. Hai subito l'impressione di incidere sulla vita delle persone attraverso l'azienda. È importante trovare la tua passione nella vita. Assurati che tutto ciò che hai fatto ti aiuta a diventare la persona che sei. Dove anche io mi diverto poi nel lavoro è cercare di introdurre cose nuove per cui uno fa il lavoro, raggiunge i risultati, ma allo stesso tempo fa crescere le persone, gli dà stimoli, fa capire quanto è bello la curiosità, imparare cose nuove. E alla fine uno si sente più empowered, come si direbbe, più pronto per fare diverse cose. Iscriviti al nostro canale